Strada invase dalla vegetazione è pericolo per gli automobilisti. Sono due i punti al centro dell'attenzione a Vasto. Il primo è il tratto di strada che collega la statale 16 a via Mario Molino. La vegetazione sta progressivamente invadendo la sede stradale, restringendo lo spazio per il passaggio dei veicoli. Stessa situazione a Fossoanghella, nel tratto che collega via Estonia a via Santa Lucia. Qui il pericolo è maggiore perché nell'affrontare la curva, chi risale verso via Santa Lucia è portata ad allargarsi, invadendo l'altra corsia. Se dovesse esserci l'incrocio di due veicoli in transito, le conseguenze potrebbero essere gravi. In questi giorni sono numerose le sollecitazioni da parte degli automobilisti che si trovano a percorrere quotidianamente questi due tratti di strada.